Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 fino alle 19 chiuso per lavori il tratto in direzione Bologna tra Aglio e Rioveggio. Sulla FIPILI per lavori in direzione mare un chilometro di coda tra Empoli ed Empoli Ovest. In direzione Firenze rallentamenti tra Scandicci e Firenze e Scandicci chiusa l'entrata di Livorno per lavori. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. I treni per un inconveniente sulla linea nei pressi di Gavorrano potranno esserci ritardi variazioni e cancellazioni. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!